Quando siete in pericolo, qualcosa dentro di voi cambia. Succede oggi nel nostro presente, ma anche nel passato. Una frase antica che nasconde un segreto. Quattro ragazzi che vogliono cambiare le cose, si ritrovano per risolvere l'enigma. Ma quando arriverà l'attimo decisivo, saranno pronti. E voi, sarete pronti? Sceglierete la paura? O avrete il coraggio di pensare? Visita il sito www.iononrischio.gov.it e scopri il tuo attimo decisivo.